Quando accendi la televisione, non vedi solo un canale, o un programma, oppure un film. Scegli molto, molto di più. Quando accendi la televisione, vedi ciò che accade nel tuo territorio. Osservi come il mondo attorno a te si evolve. Giorno per giorno. Quando accendi la televisione, ti aggiorni sulle tendenze. Segui le storie che ti accompagnano da sempre. Ma soprattutto quando accendi la televisione, semplicemente, scegli. Perché scegli la dedizione. Perché scegli la passione. Perché scegli le idee. Perché scegli RTV38. dei miei elemmoni sulle sorti. Ha like, Come so se trattano lascia!